Una delibera stilata nell'ultima seduta del 25 febbraio scorso in cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, che rappresenta circa 1600 professionisti, auspica e chiede l'opportunità che nella prossima fase 2, quella per intenderci che comprende i cosiddetti servizi essenziali, venga prevista la vaccinazione di tutti coloro che operano negli uffici giudiziari, ivi compresi gli avvocati che svolgono la propria attività nei medesimi spazi di magistrati e impiegati. Sentiamo il presidente Giovanni Di Bartolomeo. Questa delibera hanno intanto espresso l'auspicio che la fase di vaccinazione che riguarda le categorie più fragili, quella che è in atto, si concluda quanto prima e rispetto alla fase successiva, quella nella quale si parla di intervenire con la vaccinazione sui servizi essenziali, hanno evidenziato la necessità di vaccinare riguardo al sistema giustizia non solo il personale di magistratura e quello di cancelleria ma anche gli avvocati che con il personale di magistratura e di cancelleria condividono gli spazi e l'attività perché tanta attività degli avvocati si svolge in presenza come dei magistrati e gli altri. C'è poi un altro aspetto molto importante da considerare ancora di Bartolomeo. Che è quello di garantire e possibilmente sin da subito la vaccinazione di quegli avvocati che hanno degli assistiti in carcere perché il mondo del carcere è un mondo chiuso in cui è più evidente il pericolo del contagio. Lunedì infine in programma una riunione degli ordini forensi d'Abruzzo in cui la richiesta verrà fatta propria in sede distrettuale. A quel punto la palla passerà alle istituzioni. Ci sono regioni come la Toscana, la Sicilia che hanno già provveduto in maniera simile. Non vogliamo arrogarci compiti che non sono i nostri. Ecco noi abbiamo solo evidenziato un tema a chi ha le competenze per intervenire. Siete ottimisti comunque? Lo siamo moderatamente.